allora belli freschi siamo in giro per roma oggi mi ha scritto un fan per fare lo spiritoso perché ne sapeva che gli rispondevo mi fa passi a casa caffè si passo a casa caffè sei un king e bro portiamo un bel regalo qualche esclusivo let's go scena prima o le questa è il petito ho preso un pensierino grazie anche io ti ho presentato tiramisù si a me vista la classifica mi devono fare il tiramiju bella blu minchia esattamente blu frate mamma mia ragazzi e chi ingarazza frate il 22 dai bro assolutamente che scherzo è stato un piacere cioè non so io vi direi passare su a casa per quanto non so non so che direi veramente non so che direi vero a a a a a a a Grazie a tutti.